Ragazzi, questa escursione è uno spettacolo, paesaggi di mozzafiato, tanta fatica ma veramente ne è balsa la pena perché ti proietti in un contesto dove non sembra di essere intanto in Lucania, ma non sembra di essere proprio a poca distanza dai centri abitati è come se fossi in un'altra realtà, poi questi massi che sembrano messi qua in modo naturale ti avvolgono in una storia fantasiosa, quasi fiabbesca quindi veramente è un'escursione da fare, la consiglio a tutti quelli che sono buoni camminatori, ovviamente Grazie